La strada era giusto al confine brevemente da sé, è un posto abitato da parte e da poche altre porte di vita ugualmente contenente. Vicino all'indulcio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate riparano, tristi così come sono arrivati. Comunque a qualcuno una volta mi saranno piaciuti se poi sono state abitate qualcuno che ferma l'indulcio e poi mi sono, aspettiamo che arrivi l'estate. L'estate da noi non è mica un periodo felice, che il caldo ti toglie la pace, alla volta le cose l'unico cosa che ti spezza la polizia con quel rivezzo e faccio. La gente che passa ci guarda e prosegue il veloce, ci osserva e prosegue il veloce, agliare saluti, ma sempre prosegue il veloce. Forse almeno si vedesse l'autostrada ci potrebbe essere solo una città, con pure proseglie, comunque la va meglio, meglio che qua. La chiesa ricorda le case, ma viene una croce, forse un po' più di bellissima, ed un'unica luce sfumita da fiaccoli attese in bello per il peggio. Quelli che la vidi, un traccetto col prega, è il 5 di aprile e tirano la prezza che dà un colore all'acqua, il profumo di pane dell'unico, lei pure di me, e forse sorrisi, non sono sicuro ma forse davvero sorrisi, perché all'improvviso sul mondo più forte è l'odore di un pane dell'unico, la gente che passa ci guarda e prosegue il veloce, ci osserva e prosegue il veloce, magari saluti, ma sempre prosegue il veloce. Se almeno si vendesse l'autostrada ci potrebbe essere solo una città, oppure proseguire, comunque la va meglio, meglio che qua. A volte succede qualcosa di dolce e di bacana, come svegliarsi e trovare il neve, o come quel giorno che lei mi si è appriso, ma senza voltarsi e fuggire, vederla venire più vicino, o quasi morire. Trovare per caso il destino e non sapere che viene, e invece volerlo a parlare. Mi piace guardare la fascia che si costa del sole, vedere che in fondo si mora, ed unire distesa su un vento di viola. Mi piace sentire la forza di viola, mi piace sentire la forza di viola, mi piace sentire la pace, la pace di dire che tutti ti amo. Aspettiamo il nostro messaggio, intanto non devo sparire, pensato alle cose che mi voglio offrire. Mi croce, la casa, la chiesa, la croce, mi croce, la casa, la chiesa, la croce, di più, lo spettacolo atroce di più. Tutta la gente che passa a quarta e a proseguire ver Randy, ci osserva e proseguvertedo. G streams migliori saluti, ma sempre proseguvertedo. La gente che passa a quarta e insegnar di mete, ci osserva e proseguvertedo. Magari scopri, ma sempre proseguvertedo. La gente che passa, ci diamante al mare, ci osserva un rivero closer metà un certo tempo Grazie. 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 Grazie.